Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video in cui si aprirà una nuova serie Credo che l'abbiate capito dal titolo anche perché me l'avete consigliata davvero in tantissimi Però siccome io sono Dorian B e mi devo complicare come al solito la vita Questa prima puntata di Prova a Non Ridere si svolgerà così I got it from my dad, 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 dad I got it from my dad, 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 dad Mi berrò un sorso d'acqua e ogni volta che riderò ovviamente sfuterò l'acqua Perché voi lo sapete cosa succede quando una persona beve l'acqua e poi ride no? Spero vivamente di non affogarmi perché altrimenti domani sui giornali esce il titolo Youtuber muore soffocato per fare un video Porca puttana raga se mi metto a ridere mentre ho l'acqua in bocca qui succede il mare praticamente Il fatto è che io rido sempre, come cazzo faccio? Ma se volete che questa diventi una serie arriviamo a 10.000 like ovvero 10.000 pollici in su Che a 10.000 mi piace farò un'altra prova a non ridere ma stavolta cambierò la challenge Mi raccomando scrivetemi nei commenti se avete anche voi qualche idea per la nuova prova a non ridere challenge Ovvero tipo ogni volta che ridi datti una mazzata nei coglioni tipo no? No forse questo non lo dovevo dire Prima di cominciare mi raccomando in descrizione come sempre trovate il link della mia pagina facebook Andate subito a mettere un bellissimo mi piace Tempestate di like questo video perché a 10.000 like faccio il secondo episodio E in descrizione trovate anche il link del mio profilo ufficiale di instagram dorian b ufficiale Andate a seguirmi anche lì perché ogni giorno caricherò una foto Per questo episodio mi sono organizzato vero? Perché se no qua succede veramente il mare perché voi sapete che io mi scasso dalle risate ogni volta che vedo qualcosa di comico A volte mi scasso dalle risate anche quando non vedo qualcosa di comico Quindi figuriamoci se vedo qualcosa di comico Sono fottuto Siamo pronti e che il signore ce la mandi buona Mamma mia io non ce la farò mai 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 Scusate ok 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 Un attimo 1 va bene mi devo riprendere un'altra volta l'acqua Aspettate, ok, aspettate, mi bevo un'altra volta l'acqua Oh no, no, cazzo sono a due, no, di nuovo l'acqua No, eh no, ma non possiamo andare avanti così, cazzo, sto sprecando tutta l'acqua Sono a tre, raga Porca puttana Here he goes No, così non ce la posso fare, non ce la posso fare Già sono a quattro, porca puttana, non ce la posso fare così Oddio Raga, che dite, ce la faccio a bermi tutta una bottiglia a sputarla, io dico di sì Ready, go Oh, she looks like she's gonna do karate Look at her, she's like gonna do karate Minchia, mi sto bevendo tutta la bottiglia, Cristo Sono cinque, raga, sono cinque, ok? No 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 E non si può condivere così Oh Cristo Va bene, fa un culo Sono sei, ok? Sono sei È arrivata l'acqua dappertutto qua già Ho raccolto mezza bottiglia d'acqua qua dentro, raga No, no, io direi basta così anche perché già la bottiglia sono capace a finirmela, raga, eh Sono capace benissimo a finirmela Mirate che sì, se volete che questa diventi una serie, mi raccomando 10.000 like a questo video Qua ho combinato un macello, Cristo Ora mi devo mettere ad asciugare l'acqua che ho sputato Perché la cosa bella è che è arrivata dappertutto Mi ero messo la bacinella Ho detto, può essere che la bacinella contiene l'acqua che sputo Perché quando io scoppio a ridere, scoppio, raga, non ce n'è per nessuno Scoppio come una bomba atomica In descrizione mi raccomando, come sempre trovate il link della mia pagina Facebook Andate a mettere subito mi piace Tempestate di like questo video che a 10.000 like metterò la seconda puntata E lì veramente sono fottuto In descrizione trovate anche il link del mio profilo Instagram ufficiale Dorian B ufficiale Andate a seguirmi anche lì che metterò una foto nuova ogni giorno Mi raccomando, condividete e commentate Al prossimo episodio Ciao ciao Voi raga E se non siete ancora iscritti al mio canale Mi raccomando Iscrivetevi al mio canale Cliccando il tasto iscriviti Condividete, commentate Mettete mi piace E guardatevi questi video qua Che vi sto consigliando io Mi raccomando In descrizione a questo video Come in ogni altro mio video Trovate tutti i miei link Di Facebook Di Twitter E di Google Plus Comunque Grazie.